C'è qualcosa di diverso. Sento di aver intrapreso un cammino più oscuro. Magari non è così male. Ho ricevuto l'oscuro battesimo e non c'è nulla che possiamo fare per fermarla. Questo è un territorio inesplorato. Tu credi di farcela? Hello, Danny! Hello, Mama! Cherry Bomb! Posso scegliere di avere paura dei miei poteri o posso usati? Ci hanno parlato di levitazione, l'uccisione di angeli, la resurrezione di streghe morte. Come può una mezza mortale del primo anno fare questo? Cherry Bomb! Cherry Bomb! Sento di doverti avvertire. Questa sono io. Sabrina! Tu adori i poteri che ti ho dato. Cos'è che vuoi da me? «Dios, ciao!» No, e questo sia un po' di… Non è il mio mondo. Non è il mio mondo.